Chi vive la scuola sa che la relazione in classe è uno dei punti di maggiore impatto e criticità per noi insegnanti. Le cosiddette classi difficili sembrano in aumento e possono essere lette come sintomo di un malessere generalizzato. Molti docenti, al di là delle indiscusse competenze disciplinari lamentano conoscenze scarse nella lettura e nella gestione di dinamiche relazionali. La psicosintesi di Roberto Assagioli offre strumenti preziosi in riguardo e sarà la base per i nostri incontri. Attraverso una parte teorica e molte sperimentazioni pratiche saranno esplorati difficoltà e sentimenti di frustrazione, ma soprattutto faremo emergere le potenzialità individuali e quelle del team a docente. Che cos'è la leadership? Per la psicosintesi può essere intesa come la capacità di essere trasformatori consapevoli dell'ambiente in cui viviamo e lavoriamo. Porta al piacere di sentirsi attori protagonisti e propositivi nel fondamentale ruolo di educatore. Nel percorso saranno centrali il riconoscimento degli stili di leadership e la valorizzazione di ogni portato individuale. Scopriremo così anche una riconnessione con il senso profondo della relazione educativa. L'offerta rientra nel quadro di prevenzione dello stato di salute psicofisica del personale, quindi di sicuro interesse per l'intero sistema scolastico.